Pronti! Ho anche cambiato un attimino il DualSense, sperando che non mi crei problemi con l'R2, perché questo è quello che fa un po' di danni. Allora io, raga, qua mi ricordo che è una battaglia non proprio semplicissima, almeno non per me. Che qua abbiamo fatto. No? Svegliato strada? Aspetta, avete ragione, qua c'è la panchina. Non voglio tornare sotto bar, vai tranquillo. Voglio affrontarlo, ma non so... ho paura. Guardare la torre. Guardare la torre. Perverone. Guardare la torre. Allora, almeno un soldi, sempre un soldi. Però non si chiuderebbe. Allora, l'allora. Questa è più oltre. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E hanno disattivato il nostro telecomando da remoto. E guarda che arriva. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Come funziona sto coso, più che altro. Cioè io con Cloud cosa c'ho? Aspetta un attimo, porca vacca. Infatti ho già detto che hai i tasti. Allora, Fulgore ce l'ho al 2. E già possiamo farglielo. Poi andiamo di là. Perché anche con Tifa mi pare Fulgore ce l'ho, ok. Ce la fai tirato? Ce la fai tiraglio? Gli l'hai tirato? Allora, non vedo roba... E queste cose quando glielo posso togliere? E queste cose quando glielo posso togliere? Ad io continuo, vado di Fulgore a palla. Venkete. Barrettopoli se c'è qualcosa. Barrettopoli c'è sempre qualcosa, dai. Non c'è Fulgore. Va bene, niente. Allora, Barrettopoli ti occupi di tenere in vita gli altri, va bene? Che strana musica. Allora, fammi un attimo Cloud qua. Poi riprendiamo. Allora, i PM ce li abbiamo. Anche te fai Fulgore. Anche perché tra un po' la stordiamo, eh. No, fai così. Mi ricordo che era molto di più di questo. Ok. Barrettopoli. Fammi un... Fammi un questo. Te fammi questo. Cacchio, però fino all'infinito sarebbe comodo, eh. Fino all'infinito sarebbe comodo, no? Anche se chiaramente l'abilità limite... Il coso limite era meglio. Toglio un po' di più. Eh, che bastardo. Candone centrale. Oh, shit! No! Dai! L'avevo schivato, che palle. Fa un miracolo, va. Che cacchio! Brutto maledetto. Continuiamo con Fulgora. Continuiamo un po' con Fulgora per... Aia. Va bene. Non è morto nessuno, vero? Cos'è che è? Ordigno S. Voia. Allora, con Tifa... Possiamo evocare... Cloud c'è il limite attivo, eh. Fammi fare una cosa. Non voglio... Non voglio il... Il coso di Cloud. Va, continua con un po' di Fulgora. Tifa, tutto a posto? Voglio ributtarlo giù. Voglio ributtarlo giù. Voglio stremarlo un attimo e poi... Aia. E poi andare con... Con il cos'infinito. Con la sua abilità limite. Allora, Tifa sei sempre messa male, cacchio. Però anche Cloud. Preferisco Cloud perché chiaramente... Oh, cos'è? Shit! Oh, ci sono delle mani. Aspetta, va. Mira le mani, oh, mira le mani. Non so se... Se togliendo lì le braccia... Boh, succede qualcosa. Sempre sul braccio destro, vai. Aia. Boh, io quasi quasi... La sfondo. Ho paura a fare l'abilità limite, però. Eh! Non ha fatto molto. Vabbè, fa lo stesso. Continua di fulgo ora, vediamo. Non ha fatto un cacchio. Estremalo. Spacali sto braccio destro. Tifa, dammi una mano, un attimo, dammi una... Una mano, vabbè, una tallonata. Via. Ok. Barrettopoli. Si era agganciato? Maledetto. No, raga. Pessima situazione. Pessima situazione. Molto pessima. Ok. L'unico è Barrett con i PM, cacchio. Devo fare un po' di PM con Barrett. Cioè, devo usare un po' di PM con Barrett, quindi... Cerca di curare tutti. Te stesso e tutti gli altri. Cannone centrale. Vai, vai, vai. Cannone centrale possiamo usarlo per ricaricare, eh. Pure mi tifa. Eh, purtroppo, la tensione là non è... Non è al massimo. Abbiamo 18 minuti. Vabbè, il tempo non credo sia un grosso problema. Tifa, puoi continuare a farmi un po' di fulgora. Cercando di aumentare la roba là, ma non aumenta di troppo. Ascolta. Cloud. Invoca. Non ce l'ho un tizio elettro, vero o no? Non credo di avere un... Un'evocazione elettro. Vai, è tutto tuo, Ifrit. Te fai quello... E... Tifa, te continua a picchiare... Elettro, boh. È imbattibile, non vi resta che morire. Ma a me non sembra, però, vabbè. Con calma, eh. E... Boh, tieni. Tanto Tifa la vedo messa bene. Non voglio usare l'abilità limite, cacchio. Dai, Cloud. Vai di estremante. Ehm... Boh. Barret. Ok. Via dal cadone centrale. Io lo faccio, eh. Farà Cloud il robo. Però voglio... Voglio prima... Stremarlo. Se riesco a stremarlo... Gli facciamo un botto di danni con... Con la cosa. Quella roba finale. Tifa... Continua... Continua a cercare di stremarlo. Non ce l'ho un robo per stremare con lei? Sfera offensiva, no? Continua a tallonate. Cloud, anche te? Adesso... Si va. Vediamo quanto li facciamo. Sfera un po'. Niente, è bloccato a metà vita. Porca! Ventimila fasi, c'ha. No, non è che vuola, vero? Boia? Eh, è partito i fritti. Sì, ma questo è un problema, raga. È bloccato a mezz'aria. Non me lo ricordavo a mezz'aria. Ho fatto 3.600. Che per carità, eh? Posso stremarlo anche in aria? Occhio Barreto. Cannone centrale. Eh, sì, ma... Ma come faccio? Posso curare un attimo Cloud, ma neanche. Cioè, non posso colpirlo. Posso? Vieni qua. Vieni qua. Aspetta un attimo. Non manz'ami Cloud, perché porca vacca... Mi serve rinascita. Porca. Barre, devi tornare in vita. Non ho più PM di niente. Cloud è morto. È rimasto solo tifo con niente. Porca vacca, mi ha paralizzato Cloud. Ok, allora, sta roba del robo volante non me l'aspettavo. E ho... Peccato perché ho sprecato anche il robo infinito per colpa del... Della metà vita. Vabbè. Allora, raga, l'ho riportato a metà vita. Purtroppo non si è ammessi bene con Cloud. Ma in realtà ho notato che partivo proprio male con Cloud. Cioè, Cloud partivo con 38 PM. Non me ne faccio niente di 38 PM. Cioè, capisco tutto, però mi sembrano un po' pochi. Adesso a Barret li ho usati, per l'appunto sono andato con un'altra tecnica. Ovvero, con Cloud e Tifa uso solo le mosse, le abilità. E invece con Barret vado di magie. Puntando ogni tanto su... Boh, che cacchia ne so. Cannone centrale, oh shit! L'ho visto dopo. Allora. Ma è l'unica, è questa. L'unica è continuare a sfruttare Barret come tank, praticamente. Abbiamo le abilità limite di tutti. Vedete un Fulgora. Occhio all'ordigno. Per me fa esplodere Barret. Va bene. Sto tenendo Cloud libero apposta perché c'è a Miracolo. E in realtà ce l'ha anche Barret, però... O muore lui o muore Barret. Sono gli unici che... Che li tengo appunto... A stecchette, diciamo. Cannone centrale, occhio. Vieni un attimo qua in mezzo, che porca vacca, ti apro. Gli risgancio tutto addosso, giuro. Vieni, vieni, avvicinati. Allora, Tifa, per favore. Vai. Barret. Vai. Non gli ho fatto un cacchio. Vabbè, va bene, non lo stesso. Allora. Cloud ha pochi punti. Barret non ha più niente, però. Ho finito... Ho finito... Ho quasi finito la roba con Barret. Andare a farla... No, colpo incrociato non glielo farà mai. L'ho preso? L'ho preso con colpo incrociato, godo. Barrettopoli. Provo a stremarmelo, non lo so. Allora, adesso c'è... C'è Tifa che ha... I punti. Quindi devo sfruttare lei. Cloud ne hai un po'. Prova. Non so se riusciamo a stremarlo, cosa succede. E dai. Voglio metterlo con destra. E dai. Che fa? E qui? Non fa niente. Bohia. Aggressivo l'amico, eh. Tifa. Aiutami un attimo. Pavoro Barret. Barret muore. Barret è morto. Barret è morto. Io... Miracolo non posso farlo. Va bene. Claudio e Barret sono morti insieme. Che cacchio succede, raga? Ma raga, ma che cacchio succede? Sono morti entrambi. Merda. Eh, è finita. Ordigno S, sì. Vale. Buongiorno. Nooo. Porca. Mancava... Pochissimo. Ma dai, ma cacchio, ma... Ma ha spammato cannoni centrali. Ma che cacchio era? Cioè, la faccia della I che gli ho tolto. Boh. Che si è successo? Aspetta, 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 aspetta. Sono andando avanti? C'è l'ultimo quarto? Buoni, buoni, buoni. Non pensavo avesse un altro quarto. Non pensavo avesse un altro quarto. Allora. È un grosso problemone, eh. Ho sbagliato. Ho sbagliato, 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 ho sbagliato. Barret, curati, per favore. Curami il barrettone. Che adesso prendo un grosso schiafo, poverino. Sei vivo? Allora, Barret, che cacchio mi è rimasto? Tifa con 25, Barret con 29. Curati ancora, Barret. Tifa, riesce a farmi un'abilità limite? Forse, forse, forse riesce a tirargliela. La botta. Eh, curo un attimo Cloud. Gliela ha tirata? Cloud, sei rimasto con 9. Oh, guarda, precisi, precisi. Curami Tifa. Oh, porco cane! L'ho visto che me lo puntava addosso. Allora, Tifa... Te sei quella con un PPM. Fagli qualcosa di elettrico. Sì, vabbè, ma spamma, spamma roba, questo. Barret, curati. Ce l'abbiamo fatta, raga, ce l'abbiamo fatta, dai. Cloud. Ce l'hai davanti. E l'immortacci sua. Porca vacca, oh. Quattro volte che ci riprovo. È perché il problema è che mi muoiono sempre Cloud e Barret. Cioè, se mi rimane solo Tifa, non ho la rianima per lei. Con lei. Eh, sono i PM, poi, raga. Yeah. Ciao, ciao.